Gli iscritti al PD erano 810.000 quando Bersani ha iniziato, erano 500.000 lo scorso anno, sono 250.000 adesso. Quel modello di partito fatto da un'organizzazione che sistematicamente pretende di gestire tutto da Roma, forse ha bisogno di qualche sindaco e amministratore in più che va a dare una mano a Roma e di qualche polemica e corrente in meno nel territorio centrale e quindi alla domanda di Guerini rispondo, il sindaco può fare il segretario, il segretario può fare il sindaco, il problema non è questo, il problema è per fare che cosa? Perché io sogno un PD che finalmente torna a vincere le elezioni, non si limita a organizzare le primarie, sogno un PD che finalmente torna a parlare dei problemi della gente, sogno un PD che supera le correnti, lo dico qui a Firenze, innanzitutto a tutti quelli che si definiscono Renziani.